Dopo un sacco di bestemmi e un sacco di parolacce e un sacco di detti, non detti eccetera eccetera Balotelli torna in nazionale, ci torna perché Mancini ha diramato la lista dei convocati per le tre amichevoli internazionali che l'Italia, non stava a dire che la Juve, che l'Italia doveva fare e quindi Balotelli torna in nazionale ufficialmente Ci sono delle sorprese, nel senso ho visto una lista molto fresh, molto fresca con delle novità, delle esclusioni eccellenti Ma perché? Innanzitutto perché? Perché Verratti e Chiellini non sono stati chiamati Molti di voi se lo stanno chiedendo probabilmente sia Verratti che Chiellini sono infortunati Quindi per questo non sono stati chiamati Inoltre, inoltre, questa è una cosa molto importante da dire Non è stato chiamato De Rossi a quanto pare per scelta tecnica Cioè lui vorrebbe provare a centrocampo qualcosa di diverso visto che c'è abbondanza comunque in quel ruolo tipo Baselli, Pellegrini, Cristante eccetera eccetera Per il resto sono delle convocazioni su cui mi trovo abbastanza d'accordo Volevo chiedere a voi se Balotelli merita effettivamente una chance di rientrare in nazionale Voi vi ricordate Balotelli è stato chiamato per l'ultima volta, mi sembra, in occasione del Mondiale 2014 Quindi sono quattro anni che Balotelli non è più in nazionale Balotelli ha comunque andato avanti con l'età Giustamente ha recuperato uno stato parziale di forma con il Nizza Io volevo sapere da voi se Mancini fa bene a basarsi su di lui per la sua Italia Oppure se invece dovrebbe dar spazio ad altre cose Per esempio mi ha stupito l'esclusione di Al Sharawi Grazie! Grazie! Grazie!